Insediata la Commissione d'inchiesta volta a verificare il corretto svolgimento delle misure messe in atto dal sistema sanitario regionale per contrastare la pandemia da Covid-19 e in particolare della campagna vaccinale in Toscana. Sono stati eletti alla carica di Presidente Vittorio Fantozzi di Fratelli d'Italia, di Vicepresidente Federica Fratori del PD, di Vicepresidente Segretario Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle. La votazione palese è stata espressa dopo la presentazione di una sola lista annunciata dal Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e risultato di contatti informali avuti con diversi gruppi politici. Sicuramente non circoscriveremo la nostra attività su quella che è la campagna vaccinale ma ci occuperemo a tutto tondo della gestione della pandemia. Sarà quindi possibile attraverso il lavoro di questa Commissione ricostruire i passaggi più critici o quelli che sono rimasti ancora senza una risposta verso la comunità toscana che ci hanno interessato negli ultimi due anni. Questa in due direzioni, da un lato per fare pienamente luce e trasparenza su quelli che comunque sono stati i passaggi di ordine amministrativo e dall'altra parte per sostanzialmente evitare che in futuro anche attraverso una ricostruzione diciamo in attività costruttiva di questa Commissione si possano impedire e verificarsi di situazioni come quelle che abbiamo vissuto. Ma io credo che sia per i tempi che per le modalità questa Commissione in realtà potrebbe essere efficacemente riassunta nel lavoro che la terza Commissione Sanità sta conducendo da tempo. Noi siamo mesi che audiamo l'assessore tutte le settimane che ci viene a riferire sull'andamento della campagna vaccinale e tutti i commissari hanno modo di interloquire con lui e con tutti i tecnici dell'assessorato. Ovviamente non abbiamo niente da nascondere, siamo assolutamente disponibili ad approfondire tutti gli aspetti sui quali le forze dell'opposizione nutrono ancora dubbi. Io credo che i numeri parlino chiaro rispetto all'efficacia della campagna vaccinale in Toscana e quindi gli argomenti ci sono tutti. La nostra disponibilità è chiaramente quella, un confronto pur che sia serio nel merito e delinei secondo me, oltre ai dubbi, anche gli ottimi risultati che la Regione ha conseguito. La Commissione d'inchiesta non l'ha richiesta il Partito Democratico, l'hanno richiesta le forze dell'opposizione e quindi alla prima riunione dell'ufficio di Presidenza vorrò capire su quali aspetti deve concentrarsi. Ricordiamo che la Commissione ha una durata di tre mesi più tre, quindi un tempo anche piuttosto ridotto. Nel frattempo la Commissione 3 sta continuando a lavorare, quindi ondevitare inutili sovrapposizioni e dare efficacia a questo strumento. Il Presidente per primo ci dirà come vuole procedere e chiaramente come Vice Presidente ma anche come rappresentante del Partito Democratico porterò le mie osservazioni. Secondo noi questa Commissione ha un compito molto importante, non solo quello di far luce su quello che è accaduto durante la gestione della pandemia. Tutti stiamo al corrente che alcune categorie hanno avuto un accesso privilegiato ai vaccini, ma anche quello che è stata tutta la gestione dei dispositivi di sicurezza, delle risorse su come e dove sono state stanziate e non ultimo anche il famoso piano pandemico che a tutt'oggi a noi, dietro richiesta di accesso agli atti e interrogazioni, non risulta pervenuto. Quindi avrà un grande compito questa Commissione, non solo riguardo ai vaccini ma un po' a tutto il mondo della sanità perché è notizia di oggi che alcuni medici del pronto soccorso si sono dimessi per le condizioni di lavoro massacranti. Ecco, io credo che la Commissione debba svolgere un ruolo investigativo piuttosto pesante perché ci sono tante criticità su questa gestione della pandemia e la situazione di pronto soccorso è una evidente conseguenza. Non arriva troppo tardi perché non siamo ancora usciti dall'emergenza Covid, tant'è lo dimostra che siamo ancora tutti qui con la mascherina, che fuori ci sono delle persone che protestano contro i vaccini, non è ancora tornata alla vita normale e il rischio di una ricaduta c'è comunque. Si spera che la Giunta abbia imparato dai propri errori ma il compito nostro è quello di fare il nostro lavoro fino in fondo, cioè di trovare le criticità e capire chi ha sbagliato nella catena di comando perché non si ripeta. Io non partecipo, Italia Viva non partecipa, abbiamo scelto di stare fuori dalla Commissione d'inchiesta perché non è il momento e non è opportuno, è fuori luogo, è fuori tempo tutto, fuori tempo massimo, le cose si fanno quando servono. Noi abbiamo portato i primi a fare le critiche quando la vaccinazione non funzionava, devo dire però onestamente che ogni richiesta, ogni proposta, ogni modifica che io ho avanzato è stata accolta, devo dire la verità, lo abbiamo fatto negli hub, nel cambiare il modo, nel cambiare e definire le priorità, nelle fasce, nella scuola, in tante questioni che noi abbiamo posto siamo stati ascoltati, quindi era quello il momento in cui avanzare le critiche, siamo costruttivi, noi siamo a favore del nostro Presidente Gianni, siamo a favore di tutti coloro che poi da mesi, direi da anni, stanno dentro gli hub di vaccinazione, oggi pensare che quelle persone debbano essere indagate dalla politica che sta seduta nelle sedie, secondo me è assurdo, noi siamo a favore dei medici, degli infermieri, degli operatori sanitari che poi tutti i giorni a fare vaccini ci vanno, a curare le persone ci vanno e oggi sentirsi indagati dalla politica credo che sia scorretto, è il motivo per il quale Italia Viva non partecipa alla Commissione d'inchiesta in ambito regionale perché poi le cose alla fine si sono fatte, sono state fatte bene e poi alla fine oggi i vaccini ci sono, è il motivo per cui la nostra è una scelta politica. Il Consiglio regionale ha detto sì alla legge di modifica alle disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Il testo emendato è stato approvato con 23 voti favorevoli e 11 astensioni dopo aver trovato la sintesi in un emendamento, prima firmataria Elisa Montemagni della Lega, che prevede l'obbligo per i cittadini ad esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato di protezione sussidiaria e che non autocertificano residenza fiscale in Italia di presentare documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. Intanto la Regione Toscana è dotata di una legge che è una legge recente e che è una buona legge e che andremo fra l'altro anche a correggere recependo quella che è stata la sentenza della Corte Costituzionale per renderla meglio applicabile e per evitare che ci siano ricorsi che intralcerebbero e ritarderebbero la redazione delle graduatorie da parte dei comuni e questo andrebbe soprattutto ad essere dannoso nei confronti dei cittadini, tutti i cittadini che in Toscana hanno il diritto e i requisiti per poter chiedere una casa popolare. Per il resto ci sarà la possibilità di fare investimenti importanti sul patrimonio che la Toscana ha, sono circa 50 mila alloggi, già nella passata legislatura al sistema erano stati dati e investiti oltre 200 milioni, ora abbiamo già disponibili 90 milioni per quanto riguarda l'efficientamento e quindi per quanto riguarda l'intervento anche di ristrutturazione degli alloggi esistenti e nelle linee strategiche per l'utilizzo dei fondi europei e quelli del PNRR noi avevamo già previsto la possibilità, anzi data l'indicazione di utilizzare questi fondi. Quindi la cosa più importante che è quella di avere disponibilità di alloggi troverà nei prossimi mesi e nei prossimi anni la possibilità di concretizzarsi perché risorse importanti sono già disponibili o saranno comunque accessibili. Per il resto occorre ovviamente una modalità di gestione che sia attenta a controllare che nelle case popolari ci sia chi ha i requisiti per entrarci, chi ha mantenuto i requisiti per starci quindi lotta furbetti e le case veramente a chi ne ha bisogno. Sì, è una discussione che è avvenuta prima della chiusura estiva che riprende oggi noi ancora non abbiamo discusso i nostri 2.500 emendamenti siamo in fase di discussione generale il nostro principio è quello che ancora non riconosciamo l'urgenza la richiesta di urgenza nella modifica della legge sulle case popolari però oggi siamo voluti andare avanti quindi abbiamo detto che andiamo incontro alla maggioranza sempre per uno spirito collaborativo nel rispetto di tutti i comuni e di tutti i cittadini che stanno attendendo i bandi e quindi una casa popolare accettiamo la rivisitazione della legge però noi chiediamo che oltre alla legge così com'è sia al suo interno inserito un principio ulteriore di uguaglianza è quello della residenza fiscale e quindi dei possedimenti patrimoniali anche all'estero perché un cittadino italiano e un cittadino toscano è immediatamente verificabile se ha dei possedimenti all'interno della Toscana o all'interno della nazione mentre questo non è immediato per quanto riguarda un cittadino straniero quindi per il principio di equità così come lo dimostrano i cittadini italiani ci sembra giusto che anche i cittadini stranieri per poter avere una casa popolare in Toscana dimostrino prima che non hanno dei possedimenti nel paese di loro provenienza quindi questo è il principio cardine su cui oggi noi ci stiamo battendo per cui questa discussione si sta proterrendo per diverse ore ci sono tante case popolari che ad oggi non sono usufruite dai cittadini toscani proprio perché non sono agibili quindi sarebbe più veloce l'intervento di una ristrutturazione di una messa in sicurezza di questi alloggi sicuramente non saranno sufficienti quindi ci dovrà essere un ulteriore intervento da parte della regione toscana per reperire magari degli alloggi già esistenti ed acquistare da una proprietà privata oppure per costruirne dei nuovi in questo periodo sì, diciamo che il tema dell'emergenza abitativa e delle case popolari dovrà essere centrale perché purtroppo la pandemia ha messo in ginocchio ulteriori famiglie oltre a quelle che già c'erano in precedenza Ad oggi possiamo dire che Fratelli d'Italia ha fatto un lavoro importante in commissione all'inizio dell'estate per modificare la legge che era uscita dalla giunta regionale introducendo come criterio premiale la storicità della residenza e quindi la legge che è uscita dalla commissione prevede un punto per tre anni di residenza anziché zero due punti anziché zero per cinque anni di residenza tre punti anziché due per dieci anni di residenza a salire 15 anni eccetera eccetera quindi abbiamo voluto e in commissione siamo riusciti a introdurre appunto il criterio della premialità della storicità della residenza nell'assegnazione degli alloggi popolari quindi a nostro giudizio la legge che è uscita dalla commissione nello scorso mese di luglio è una legge molto migliore rispetto a quella che era entrata in commissione e per questo motivo in questo modo ci siamo approcciati al lavoro della commissione cercheremo di migliorarla ulteriormente nei lavori di aula in particolar modo riteniamo che si possa agevolare un rapporto tra gli uffici dei vari comuni e i catasti degli stati esteri per capire se i richiedenti, se coloro che fanno domanda dell'alloggio popolare e hanno proprietà all'estero appunto siano o no diciamo legittimati a chiedere l'alloggio popolare in Toscana in particolar modo nelle città toscane è una legge che a mio avviso andava già bene per quel lavoro straordinario che abbiamo fatto nella passata legislatura un lavoro fatto di un anno e mezzo di concertazione si è voluto migliorare un punto rispetto a una presunta illegittimità costituzionale noi abbiamo presentato il nostro emendamento che poi di fatto è stato accolto perché dare un punteggio aggiuntivo a tutte quelle persone che da più anni stanno in Toscana che lavorano in Toscana che comunque producono reddito nella nostra regione secondo noi è positivo quindi è corretto che possano andare avanti in gradatoria di una legge che già con le riforme che avevamo fatto consente finalmente anche alla classe media di iniziare a sognare l'edilizia residenziale pubblica che non è più lo concetto di casa popolare come l'ha visto una volta ma inizia ad essere l'opportunità anche per la classe media che fatica anche ad andare in affitto di poter partecipare e giocarsi l'assegnazione di un'edilizia pubblica Innanzitutto siamo molto dispiaciuti che per una serie di ostruzionismi fatte dalla maggioranza e soprattutto dalla Lega si arrivi così tardi alla promulgazione di questa legge che i comuni stanno aspettando per fare i bandi e dare finalmente casa a tantissime persone che l'aspettano queste persone non meritavano questo ritardo siamo assolutamente d'accordo nell'abolizione di quei cinque anni che sono stati un indice di incostituzionalità per la legge Lombarda che noi abbiamo sbagliato e ripetuto quindi bene che venga cancellato siamo meno d'accordo invece con le primialità per quelli che risiedono da più mesi in Toscana come è stato inserito dall'emendamento però non è così penalizzante come potrebbe sembrare quindi ci auguriamo che questa legge venga varata presto ma c'è da dire che la legge sull'edilizia popolare deve essere ancora cambiata e soprattutto bisogna investire di più per rendere abitabili e per rendere degne di una famiglia tutte quelle case, quegli alloggi che versano in condizioni disastrose soprattutto perché è incredibile il fatto che in Toscana ci siano così tanti immobili sfitti anche case popolari sfitte, senza abitanti e ancora così tante famiglie che non ce l'hanno bisogna innanzitutto finanziare meglio le ristrutturazioni dell'esistente bisogna pensare a dei possibili accordi probabilmente con i privati per le case che sono vuote e bisogna pensare a altri tipi di progettazione anche e bene che ci siano i PIN qua anche Cascina e ne ha usufruito e altre realtà quindi questo è un primo passo avanti però ricordiamoci che stiamo per affrontare probabilmente un'emergenza sociale dovuta alla contingenza economica creata dal Covid e quindi le soluzioni vecchie non vanno più bene bisogna cominciare a pensare che le risorse che dovremo mettere fuori per aiutare le persone in difficoltà dovranno essere molte di più Grazie a tutti